E bello a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Allora, oggi siamo qui con un video molto 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 particolare Siamo qui con un qualcosa che in realtà non ho mai fatto E ho deciso di portarvelo qui sul canale per la mia primissima volta Inoltre ragazzi mi scuso in anticipo per la mia voce Ma purtroppo come vi ho detto anche nel video diciamo che è uscito qualche giorno fa Purtroppo in questi giorni non sto per niente bene Mi fa male molto la gola, non riesco a parlare Probabilmente sono un po' influenzata Quindi solamente per la mia forza di volontà e per la mia energia nel portarvi contenuti ugualmente Anche se non sto troppo bene Mi raccomando ragazzi, spolliciata più non posso Mi raccomando E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Così che vi arrivi una notifica tutte le volte che carico un video Ma ora ragazzi, cosa andremo a fare nel video di oggi? Ve lo spiego subito Sono sempre stata molto curiosa nel andare a provare degli snack salati, dolci o comunque anche delle bevande Americane, giapponesi, insomma snack da parte di tutto il mondo Che è qualcosa che in realtà non ho mai fatto E oggi sono qui ad assaggiare per la prima volta insieme a voi i cibi Signori, i cibi americani! E siamo qua raga con un pacco preso direttamente da American Crunch Che sicuramente lo conoscerete al 100% È un sito molto molto famoso, molto conosciuto E ovviamente ragazzi se volete acquistare dei prodotti dove sono appunto cibi e snack particolari americani Qui li trovate sicuramente Vi lascio il link in descrizione nel caso vi potesse insomma servire Ho fatto questo ordine ragazzi Ovviamente il pacco è già aperto perché ho fatto un ordine abnorme Perché ho fatto appunto una selezione E se questo video per puro caso dovesse arrivare a 3000 like Farò altri assaggi di cibi americani ancora di più Quindi ancora più particolari Insieme a un ospite speciale Chi è questo ospite? Chi lo sa? Io non ve lo dico Potreste capirlo ma non è un mio problema Dovete capirlo da soli Di conseguenza ragazzi come funzioneranno questi assaggi? Io ando ad assaggiare prodotto per prodotto E a ogni cibi che appunto assaggerò darò una votazione La votazione inizierà da un minimo di 1 a un massimo di 10 Io ripeto non ho mai assaggiato snack americani Quindi in realtà ho anche molta paura Molti dei prodotti insomma che ho potuto ordinare su American Crunch Sono prodotti molto molto conosciuti in America Ho preparato anche un bel bicchierino per poi andare ad assaggiare le bevande Ora però ragazzi iniziamo direttamente con gli assaggi Andrò ad avvicinare la nostra sediorina con il pacco di American Crunch E pescherò un qualcosa Ok? E l'andremo ad assaggiare insieme Dato vi faccio vedere anche l'interno ragazzi Giusto per magari lo volete vedere Abbiamo veramente tanti 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 prodottini Quindi iniziamo subito Direi di iniziare con questo pacchettino che mi ispira tantissimo Sono Dovrebbero essere dei popcorn al caramello Dovrebbero essere molto buoni secondo me Quindi la confezione è molto bella devo dire Nulla da dire Andiamo ad aprire la confezione Ok Valutiamo l'odore Porca Allora Odore per me è un 8 Sono buonissimi Questi come si presentano all'interno Popcorn quindi caramellati Andiamo a fare un assaggino A me i popcorn piacciono tantissimo ragazzi Ce l'abbiamo Mmm Buonissimi Sono molto buoni L'odore per me è un 8 Mentre il sapore è un 8 e mezzo Davvero molto 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 buoni Questi me li finisco tutti entro oggi Quindi come primo cibo americano Popcorn al caramello Ottimo Passiamo adesso al secondo prodottino Eh vabbè ragazzi Queste sono famosissime Quante volte avrei voluto assaggiare le Doritos Ma ovviamente non è una cosa che trovi qua in Italia Finalmente ho potuto ordinarle Non vedrò di assaggiarle Sono le spicy nacho Quindi dovrebbero essere piccanti Io non posso mangiare il piccante Ma sinceramente ragazzi A me me ne frega un cazzo Lo mangiamo comunque Apriamo Ecco la confezione aperta Ragazzi devono essere strapiccanti No ragazzi sono tipo stroppo piccanti Già lo so Scusatemi ho sniffato potentissimo Allora è molto buono Un 8 anche qua Andiamo a prendere un Dorito Ecco qui come si presenta Deve essere veramente molto molto spicy ragazzi Ho paura Vediamo com'è No ragazzi sono buonissimi No 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 piccono tantissimo Non ho perso l'acqua Ok Ho trovato dell'acqua Fermi Piccono tantissimo Ma sono Di un buono Devastante Io considerate che Uno non posso mangiare il piccante E due veramente il piccante Non lo reggo per niente Sono buonissime Come voto gli do letteralmente un 9 Peccato che io non riesco a reggere bene il piccante Perché se no vi giuro Sarebbe la fine del mondo Veramente Dorito Spice in Accio Attualmente sono nella top numero 1 Quindi un bel 9 Glielo diamo ragazzi Bello pieno Peschiamo qualcosa Questi qua Si chiamano Butterfinger Bites Crunch Peanut Butter Quindi dovrebbe essere appunto Al burro di arachidi Non sono amante del burro di arachidi Ma so che in America Mangano solo quello Ok ci siamo raga Allora hanno 140 calorie I Ah ma so già Ma pensavo fossero Pensavo fossero tipo chiusi Tipo snack piccolini Tipo caramelle Sono già aperti raga Ho fatto pure No ho sbriciolato sul tappetino Va bene Comunque l'odore Gli do un 6 Ripeto Non essendo amante del burro di arachidi L'odore non mi fa impazzire Proviamolo L'odore do un 6 Perché non mi vado amante per il burro di arachidi Il sapore Gli do anche lì un 6 6 e mezzo Perché non sono malvagi Però non è un tipo di snack Che io francamente mangerei volentieri Ora Andiamo avanti con il prossimo snack Oddio raga Che cazzo è sta roba Ma è gelata No raga Sono le jelly No 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 Io le odio Ah è schifo Ah porca No 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 Veramente è la vostra madre Allora ragazzi Come si mangia Cioè bisogna su Mi dissocio Fa cagare Fa schifo raga Fa veramente schifo Fa veramente schifo No Che sembra tipo Sembra che sia un detersivo alla lavanda Raga No Zero completamente Non mi è piaciuto per niente Credo si sia notato Andiamo avanti Abbiamo qui invece Delle Onion Floured rings Che dovrebbero essere appunto Sempre tipo A mo' di patatina Versione Cioè Sapore onion Saranno buone? Non lo so Spero però che riescono a levarmi il sapore di lavanda morbidente che c'ho in bocca Perché vi giuro Potrei vomitare Ok Allora Calma Calma L'odore sembra molto 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 buono Odore 8 Buonissimi Queste come si presentano? Provo Po' di ASMR Porca puttana Cazzo ma sono buonissime Sono più buone anche delle Doritos Spicy Sapore 10 Raga sono La fine del mondo Sono buonissime Cioè Ha proprio quel sapore leggero Ma sono proprio crunchy come non mai Che sono veramente veramente troppo troppo buone Cazzo se sono buone Tanta roba Tanta tanta roba Andiamo avanti Bene Ora siamo qua con Le Pop Rocks Queste sono super conosciute Cioè queste qua in realtà Una volta se non ero le ho anche assaggiate Sono veramente buone Ok Sapore strawberry Quindi sono la fragola Che è uno dei miei sapori preferiti Vediamo un po' come aprirlo In realtà si apre molto semplicemente Non ci vuole Un genio Mamma mia L'odore è buonissimo Odore 8 Tranquillamente Molto molto buone Questo è come all'interno Tutto rosso Ok Vado a fare l'assaggio ASMR Molto buone La cosa la conoscevo in realtà Non ha questo sapore Ma la conoscevo Voto del sapore Facciamo un 7 Molto molto buone Ok raga Ora siamo qui invece con Le Cheetos Crunchy Che a vederle Sembrano veramente Un qualcosa di Troppo troppo buono Speriamo Mai provate Vediamo un pochettino Come sono fatte Odore 7 Sanno molto di formaggio Sapete cosa sembrano Mi ricordano un po' Le tipo le L'odore delle fonzis Oppure quelle Quelle patatina Pallina a formaggio Che si mangiavano Quando eravamo piccoli Per i nostri compleanni L'odore è buono Ci sta a 7 Andiamo a vedere come sono Ecole qua Mmm Molto buono raga Il sapore è molto buono Dell'odore Gli do un Un 8 8 e mezzo Tranquillamente Sì gli diamo un 8 e mezzo Perché sono molto molto buone Ora però direi di Terminare con la prova Degli snack E di andare a provare Due bevande La prima è la Dr Pepper Che è una delle bevande Più tipo famose In America Che non ho mai assaggiato E poi abbiamo anche La Fanta L'uva Momento ASMR Di lattina Incredibile Vediamo l'odore Ma non so di niente No Sta tipo di Sembra uva Ok sembra buona L'odore sembra buono Gli do un 8 Perché mi è arrivata Ora una vampata Di sapore strano Ma tipo Non lo so È fortissimo Sembra tipo uva Buonissima comunque Andiamo a vedere Com'è all'interno Perché il colore Non so neanche come sia Ma sembra Coca Cola raga No No Il sapore però Non mi dice nulla È zuccheratissima Bocciata la Dr Pepper Non mi piace per niente Non so a voi Non so se l'avete mai provata Ma non mi piace per niente Tipo Stra zuccherata Sento molto Sento un sapore strano Tipo Sì sento tipo l'uva Ma non lo so È accentuato È troppo zuccherato Il voto della Dr Pepper Per me è un 5 Non è Non è troppo sgradevole Ma Non è un tipo di bevanda Che sinceramente Andrei a bere volentieri Quindi Gli do un 5 Ma Non la berrei Proprio mai più nella vita Vi dico la verità Bene Direi di concludere Con l'assaggio Della Fanta Al sapore Di uva Vino Non si capisce Vediamo un po' Ok Vediamo un po' L'odore ragazzi Non sento nulla Sento una tonalità Proprio di uva Ma veramente Pochissimo Veramente leggero Quindi l'odore in realtà Non so darvi Non so darvi un voto Perché non si sente nulla Ma è viola Che figliata Dalla cam forse non rende Ma è violissima È tipo Tipo un viola bellino Non come la mia felpa Ma è veramente bella Sembra vino raga Va bene Assaggiamo ragazzi Va a cagare Ma molto meglio la Fanta normale Ma che è sta roba Non sa di uva Sa di lavanda Sembra letteralmente L'ammorbidiente Quello che si usa Per lavare i vestiti In lavatrice Queste due bevande Assolutamente bocciate La Fanta Questa qui È anche peggio Della Dr. Pepper Cioè la Fanta Gli do letteralmente Un 3 Direi che abbiamo finito Di associare Tutti quanti gli snack Americani Tanta roba Devo dire che questi ragazzi Non si battono Assolutamente Molto 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 buoni Questi sono i vincitori Della nostra Sfida Assaggi di oggi Ragazzi Tanta tanta roba Bene ragazzi Siamo arrivati Al termine Di questo video Come mio primo video E la mia prima volta Che assaggiato Gli snack americani È andata abbastanza bene Tranne per le bevande Per la caramella Che stavo veramente Per vomitare Tutta me stessa Molto molto soddisfatta Davvero Tanta tanta roba I prodotti Mi sono divertita Anche nell'assaggiare Questi prodotti Insieme a voi Qua sul canale Spero che anche a voi Vi sia piaciuto questo video E se dovesse Se vi piaciuto Ovviamente ragazzi Vi ricordo Di lasciare Un bel pollicione in su E mi raccomando Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Se il video vi è piaciuto Se avete mai assaggiato Qualcosa delle cose Che ho assaggiato io Quest'oggi nel video E vi ricordo Se dovessimo arrivare A 3000 like Porterò qui sul canale Un ospite speciale Dove insieme a questa persona Andrò ad assaggiare Tantissimi altri snack americani Quindi dipende tutto Da voi ragazzi Detto ciò ragazzi Il video è terminato Dalla vostra cronatomist È tutto Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella a tutti ragazzi Ah il video è terminato Ma posso continuare A mangiare Queste qua E sono Molute Occorre Gli animi Ciao